Malattie, quarantene, assenza di Green Pass, ferie. Gli autisti degli autobus per il trasporto pubblico locale, in piena emergenza Covid, sono ridotti all'osso. A lanciare l'allarme è l'azienda che gestisce il servizio a livello regionale, Autolinea Toscana, che legge ogni giorno i report legati alle assenze di personale causate in gran parte dal dilagare della pandemia e alle collegate quarantene. A Lucca, in particolare, si sono verificate solo nella giornata di oggi 23 assenze per malattia. Nel mese di dicembre la media al giorno è stata superiore a 16. L'azienda ha cercato di correre ai ripari anticipando l'assunzione di nuovi dipendenti, ma potrebbe non bastare, qualche corsa potrebbe saltare per mancanza di conducenti. Intanto è massima l'attenzione alla sicurezza. Sono state messe a disposizione degli autisti 120.000 mascherine FFP2, pari alla dotazione per ciascuno dei lavoratori per circa un mese.